e benvenuti benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport. Continuiamo ad analizzare quello che è il momento del Bari e questo pomeriggio lo facciamo in studio con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Antonello Raimondo. Ciao Antonello benvenuto. Buon pomeriggio. Con noi anche Jessica Ramos per i vostri messaggi. Ciao Jessica benvenuta. Ciao buon pomeriggio a tutti anzi buona stardes no Antonello? Lo sai dire? Devo studiare un po'. Mi aspettavo uno lattodos invece hai lasciato perdere. E allora Antonello il momento del del Bari. Ti chiedo subito in una classifica che vede ancora il Bari nel mezzo tra playoff e playout si preoccupato per questo finale di stagione che vedrà anche il Bari poi affrontare squadre d'alta classifica. Ma sai Christian prima di pensare a qualcosa che attenga all'ambizione io voglio prima vedere una squadra che mi convinca. Non è questione di numeri di più due meno due è questione di prospettive. Se la squadra non riesce a fare un salto di qualità e io non riesco a dimenticarmi che siamo alla ventottesima giornata è chiaro che io non riesco a fare altri discorsi se non quelli realistici. Il problema è che la squadra continua a offrire prestazioni diciamo poco leggibili o meglio dopo ventotto giornate si legge bene che è una squadra non competitiva però la storia dice che specie serie B a volte succedono cose strane nelle lunghe volate finali i campionati si dice che comincino a marzo e quindi la speranza recondita c'è sempre però se mi chiedi un parere a oggi il Bari ha cambiato tre allenatori e non credo che nessuno si sia rincitullito all'improvviso al di là degli errori che possono essere stati commessi ma credo che ormai il target del Bari sia questa una squadra capace di fare ogni tanto qualcosina ma incapace di essere convincente con un atteggiamento e delle prestazioni che incoraggino all'ottimismo. Del pareggio contro lo Spezia salvi qualcosa Antonello? O hai visto proprio un Bari ancora troppo brutto anche per quello che poi sta provando a chiedere anche anche Iachini? Devo dire che quello che chiede Iachini che ci dice nel giorno della conferenza stampa e quello che poi lui rimprovera dopo io francamente non riesco a quando lui parla di una partita pre preparata per aggredire alti per andare a prenderli per fare la partita ma io non vedo nemmeno un tentativo di quello poi magari può riuscire male a volte si dice lo diceva anche Marino i tempi sbagliati di uscita del pressing e io francamente specie nel primo tempo non ho visto nulla e questo mi preoccupa perché se la squadra non riesce a seguire il proprio allenatore nemmeno un po' questo spaventa quindi poi vedo la squadra devo dire che concordo con quello che ha detto oggi il grandissimo anzi che saluto Angelo Terracenere in un'intervista lo vediamo magari con Jessica anche in grafica l'articolo sulle pagine della gazzetta del mezzogiorno con la firma anche di Davide Lattanzi dove lui parla essenzialmente di una squadra e si è visto proprio con lo spezia molto di una squadra senza personalità maglia non per tutti il titolo l'ho fatto io cercato di riassumere il suo il suo pensiero sì per esempio con lo spezia tante volte è vero che non bisogna rischiare troppo il passaggio però cercare ogni tanto di andare in verticale di azzardare un passaggio per cambiare l'inerzia dell'azione sì invece il bari è sempre molto timido e così diventa dura e quindi a volte parlando di per esempio di Frabotta io sono di quelli che pensa come non sia la stessa cosa giocare alla Juventus a Milano all'Inter o all'Udinese tutto rispetto alla Fiorentina quindi poi magari Frabotta stava crescendo aveva problemi di condizione può darsi che anche a Bari avrebbe fatto un po' meglio però è diverso giocare qui da un lato positivo perché credo che Bari ti dia degli stimoli delle delle emozioni delle motivazioni fantastiche non può essere un limite se tu hai paura non sei da Bari quindi benvengano le verità da quel punto di vista se tu ti spaventi che qualcuno mugugna o che ci sono 40 mila persone che se non vinci possono fischiare vai a giocare in una piazza infatti in una piazza senza particolari ambizioni e pressioni la personalità attiene al valore complessivo non c'è solamente la tecnica il fisico c'è anche molto molto a testa limiti caratteriali limiti anche da un punto di vista tecnico anche perché poi vediamo da Mignani a Marino a Iachini tutti che stanno cercandone l'abito adatto a questa squadra in modulo giusto però poi emergono sostanzialmente quello che dicevamo prima Antonello gli stessi problemi sì perché poi a volte la tattica diciamo ci sono modi diversi di arrivare a un risultato si può giocare 20 metri più avanti e più indietro però poi sostanzialmente servono le basi la la prima cosa è la tecnica la seconda cosa è la capacità di essere aggressivi per esempio il Bari quest'anno fa spesso pensare tutti parliamo di problemi atletici perché vediamo una squadra che non riesce a tenere intensità l'ultima mezz'ora con lo Spezia non si è fatto nemmeno il forcing sì per provare a sembrano tutti morti ora tutti e tre i preparatori sono da pensionare il professor Durbano che l'anno scorso abbiamo esaltato che il Bari volava andava meglio non credo evidentemente solo caratteristiche quindi questa è una squadra ma infatti secondo me Iachini al di là di quello che dice a volte lui parla di squadra che deve attaccare però poi gli sfugge sottolineare come la squadra abbia concesso poco quella è la base per essere forti concedere poco però devi fare qualcosa in più qualcosa in più in fase offensiva se poi diventiamo solo Sibili dipendenti bravo Sibili ma è un grossissimo limite in effetti molti tifosi dicono che grazie se siamo dove siamo grazie non solo a Sibili ma anche a Valerio di Cesare che comanda appunto la difesa e che tra l'altro lo vediamo anche come diciamo attaccante perché il paradoso è proprio quello che spesso l'attaccante più pericoloso è proprio capitano di Cesare questo l'ha dice Luta sulla sterilità poi offensiva di questa squadra i numeri sono lì a è triste che ci eccitiamo perché un difensore tenta due sortite offensive c'è bravo lui eh sì sì però non deve essere lui a risolvere i problemi del gol altrimenti dobbiamo accitarci perché la squadra produce quattro occasioni perché fa dei bei gol perché produce degli strappi quello che faceva l'anno scorso una squadra che sa essere dominante non dico in tutti i momenti della gara ma almeno in quelli in cui c'è da prendere un risultato se io vedo un Bari Spezia da vincere a tutti i costi pronti via il Bari anche col Feralpi Salò con l'Ecco non riesce mai a prendere la partita perché ragazzi Feralpi Salò e l'Ecco abbiamo visto qualcosina di più rispetto alle ultime due di Marino sull'atteggiamento sull'atteggiamento no sono d'accordo sul piano del gioco è chiaro che poi nulla bisognava anche dare no tempo a Iachini di metterci la propria impronta sì 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 no però è chiaro che a volte si ha un po' la fretta di dire ecco io no no sul piano del gioco sono d'accordo anche perché in pochi giorni non si poteva certo cambiare il Bari quindi vuol dire che nessuno andava contro qualcuno perché si diceva che Marino aveva perso l'ospedatoio che Mignani non è quello dell'anno scorso e questo è sotto chiacchiere poi la squadra ha questi limiti poi se Iachini riuscirà a renderli meno a togliere a smussare qualche angolo qualche spigolo bene ma che la possa la squadra far diventare diversa rispetto a quella che ora credo che sia molto complicato ma se riuscirà saremo qui ad applaudirlo sì molti tifosi molti tifosi però dicono perché non spingere anche con ragazzi giovani cioè vorrebbero che siccome altre altre squadre altre società stanno spingendo appunto con con i ragazzi appena arrivati i giovani anche di serie di serie c eccetera magari loro hanno più voglia più grinta rispetto a quella che ci stanno mettendo ora i ragazzi sicuramente io credo che i giovani ti diano un po di energia di incoscienza però perdi la parte tecnica no magari sì e poi secondo me secondo me Iacchini ha fatto subito un ragionamento appena arrivato a Bari punto sui calciatori più esperti che a lungo andare mi può dare determinati momento delicato tu giochi una partita in casa importante tipo con lo spezia ci sta puntare sui ragazzi sì si può però io credo che i grandi traguardi i grandi obiettivi si raggiungano con i giocatori fatti poi poi a completamento di un gruppo può inserire ogni tanto il ragazzo a furoro di popolo si quasi rivisto Gregorio Moracchiori non ne abbiamo parlato spesso vero che chiaramente non giocava a tempo ha giocato anche in una posizione magari non congeniale alle sue caratteristiche si sapeva come un po cadeva a Callon con Callon si impazziva a Bolzano si sono giocatori che hanno il riferimento della della linea del fallo laterale quindi senza quella linea li vedi un po' in difficoltà nel trovare la la posizione il fatto che siamo ancora alla ventottesima giornata ma Iacchini non c'entra a fare esperimenti difesa tre difesa tre difesa quattro un trequartista due trequartisti vuol dire che qualcosa non è andato il progetto era dire che Mignani non era quello dallo scorso che Barile era un po' a 61 anni era da pensionare e invece insomma al di là ripeto degli errori che possono aver commesso i Mignani Marino e chiunque ci sono delle problematiche è stata anche la stagione mi piace sottolinearlo in cui sfortunata sfortunata però la fortuna secondo me va quando ci sono certe basi l'anno scorso se il Bari sembrava una squadra molto fortunata anche nell'episodio però il Bari aveva un'anima no no questo sicuro sfortunati soprattutto anche dal punto di vista degli infortuni perché poi va fuori subito a Menez si fa male Maiello che è il giocatore che lì davanti pesa sì dobbiamo andare in pausa pubblicitaria tra poco con la seconda parte del bianco e lo rosso tv sport con l'intervista anche al portiere brasiliano Brenno a tra poco ti appassionano la tecnologia l'innovazione la meccatronica hai un diploma l'ITS Guccovillo modello nazionale nella formazione post diploma con oltre 70 aziende partner ti aspetta nei corsi a Bari Brindisi Lecce Taranto Altamura e Andrea con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive biomedicale automazione ferroviario siderurgico dell'industria 4.0 del sistema idrico del sistema casa ITS meccatronica puglia punto it ITS Guccovillo il futuro ora Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggio Franco ogni giorno sono il meglio del mare per la tua spesa anche i piatti pronti e con consegna a domicilio vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244 audacia azione avventura Suzuki 4x4 fuori dai luoghi comuni car service Bari concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT viale Iapigia 243 Bari Suzuki car service Bari nel cuore di Bari ultima chance a city moda trovi fino al 50% più un extra 30% di sconto immediato con una spesa minima su tutte le collezioni autunno-inverno seguici sulla nostra pagina instagram city moda italia oppure su facebook questa è una storia che conosci già è una storia di valori una storia di qualità una storia di vicinanza una storia di convenienza una storia di amicizia una storia che diventa ogni giorno più forte che mai prodotti a marchio sigma nella tua storia da sempre nella tua spesa da sempre scopri i nostri negozi e le nostre offerte su www.sigmasupermercatipuglia.it segui supermercati sigma puglia su facebook e instagram those who want to be like children are really easy really easy to recognize they they simply simply want to stay forever connected they they simply simply want to stay forever connected farmacia cavallo sempre al servizio del cittadino aperti anche la domenica mattina dalle 8 30 alle 13 offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici dei migliori brand come mi amo filorga codaliro sposè e tanti altri integratori alimentari per ogni esigenza come nemi e denarzona enervite gym line oltre ai farmaci da banco e molteplici servizi come i consegni a domicilio tampone rapido e cg oltre cardiaco e pressorio profilo lipidico scegli farmacia cavallo la tua farmacia di fiducia in viale papa pio dodicesimo 48b a bari secondo spazio del bianco loro su tv sport in studio antonello raimondo giornalista della gazzetta del mezzogiorno e jessica ramos jessica subito da te per anche capire qual è stata poi l'undici scelto anche dalla lega b per questa settima per questa giornata sì in effetti noi tutti i tifosi quasi tutti hanno puntato un po il dito su su breno ma intanto la lega b lo ha schierato come il miglior portiere appunto della ventottesima giornata di di campionato e ovviamente poi non ci sono altri calciatori del bari eh però una sorpresa no? Breno come miglior c'è Breno allora prima di chiamare in causa Antonello su Breno io andrei a sentire l'intervista flash che hai realizzato con il portiere brasiliano il nostro eh Michele caro figlio e poi la commentiamo insieme Breno sapevamo che che la partita sarebbe difficile eh però dobbiamo in questo momento dobbiamo cercare di di fare i più punti possibile e di non perdere punti quindi vedo come una ovviamente che volevamo vincere però un punto è stato stato buono pure. Senti molte volte ehm si è parlato delle tue prestazioni eh in campo insomma sulle eh su qualche incertezza ma anche su qualche buona prestazione alla fine è arrivato anche un buon risultato per te la Serie B ti ha inserito tra il miglior portiere eh dell'ultima giornata e motivo di soddisfazione anche per gli sforzi che fai al di là poi delle prestazioni in campo. Sì sì certo lavoro per per aiutare la mia squadra a a ottenere i migliori risultati e lo so che che gli ultimi due partite prima di di la Spezia non abbiamo fatto bene però adesso cercamo di lavorare e di migliorare la giornata. Senti mancano dieci partite alla fine del campionato eh dobbiamo stare attenti a chi c'è dietro in classifica? Eh dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro pensare le cose che che dobbiamo migliorare eh noi come squadra e individualmente pure. Eh tutte le partite sono difficili e questa è un'altra partita che che è difficile e adesso in questa settimana eh cercheremo di di lavorare su pensando in squadra di loro per fare eh la migliore partita possibile e e andiamo lì per per vincere. Questo Brenno e allora l'analisi Antonello anche sul portiere brasiliano. Ma devo dire la verità rispetto a un inizio da brividi è migliorato. Se mi chiedi però se nel complesso abbia convinto ricordando quanto tempo il Bari c'è stato dietro anche diciamo l'esborso economico devo dire che insomma al momento non è sembrata una scommessa eh o meglio se ne trovano anche in Italia in B e in Cina. Con lo Spezia ha fatto un paio di parate buone secondo me non miracoli e però ha commesso i soliti errori nelle uscite proprio. Lì deve crescere perché lamenta sempre delle incertezze in uscita e ci fa sempre prendere un po' qualche qualche brivido. Perde i tempi a volte non esce proprio quindi anche con i piedi devo dire che su qualche retropassaggio non sempre riesce a essere eh pulito però mi piace. Diciamo che non sono piedi brasiliani. No no soltanto no. Mi piace il fatto che sia un ragazzo molto positivo un ragazzo per bene quindi io mi piace quando nel Bari giocano persone serie ragazzi eh genuini. Questo non c'è dubbio anche voi sull'impegno che ci mette. L'ospediatore deve essere uno spogliatoio pulito fatto di ragazzi per bene quindi da quel punto di vista Brenno credo che sia indossi con mi rende orgoglioso il fatto che giochi nel Bari. Deve migliorare però sul rendimento. Jessica. Sì diversi messaggi anche per te Antonello. Aldo ti chiede quali sono le qualità di Ejumah da poter giocare da titolare? Eh lo fanno apposta Antonello. Ti stuzzicano. Ho bisogno di 20 minuti per. Ti stuzzicano. Quali sono? No vabbè scherzi a parte. Guarda Ejumah secondo me le qualità che ha è bravo negli inserimenti ai tempi giusti sul piano dell'aggressività nel recupero palla eh riesce a dare a volte un buon contributo però poi rimane io sono orgoglioso di questa mia pagella rimane il campione del mondo di palloni persi. Io non ricordo eppure seguo il calcio da da 40 anni ho visto giocare anche dei calciatori con i piedi di tavola, piedi quadrati ma un giocatore che sbaglia così tanti passaggi io francamente non lo non lo ricordo. Deve migliorare in quello. Non può in un centrocampo di una squadra che deve essere in B propositivo una squadra che deve vincere un centrocampista sbagliare tutti questi passaggi quindi al momento il fatto che giochi titolare è un po' ti fa capire il Bari come mai quest'anno sta vivendo una stagione complicata. Eh sì perché lui ci deve ancora trovare la giusta condizione a campo ancora non pervenuto è più giocatore. Una buona notizia arriva da Maita perché da ieri è tornato in gruppo e quindi si candida a questo punto anche per una maglia di titolare a Venezia e possiamo dire per caratteristiche no? Antonello è un centrocampista che serve a questa squadra no? Per la gamba per lo strappo che può avere perché nessuno in rosa ha le sue caratteristiche da mezzala. Maita è in grado di unire quantità e qualità di rubare palle e ripartire a Falcata a potenza devo dire che ancora non l'ho visto come i primi 4-5 mesi dell'anno scorso in cui fu devastante nel Bari che ha appassionato tutti. Io arrivo anche a pensare che è un giocatore che poteva stare benissimo in A. Non ha trovato secondo me quei picchi però secondo me io se Maita sta bene non ci rinuncio mai perché è per i motivi a cui facevi riferimento tu. Ha questa fisicità che nessun altro ha. Dinamismo in questo 3-5-2 studiato da Iachini possiamo immaginare Maita mezzala destra, Benari play e Sibili mezzala sinistra poi chiaramente con la libertà di muoversi e di andare dietro le punte. Può essere quella la soluzione giusta per cercare di mettere delle toppe in una zona di campo in cui davvero stiamo facendo fatica quest'anno. Però Terracene dice che con Sibili che non è che difenda molto. Si fa fatica. Si fa un po' fatica quello da vecchio centrocampista e io un po' devo dire che a parte che mi fido di lui al momento questo è emerso e fanno fatica anche gli attaccanti che magari sono anche poco accompagnati quindi mi fido anche di Iachini che a cui va dato purtroppo del tempo non ce ne sarebbe molto visto che il campionato 10 giornate alla fine però Iachini possiamo bocciarlo oggi. Lui secondo me sbaglia quando insiste con quel concetto delle scuole elementari perché non ti piace. Insomma è grave anche perché al di là degli allenatori sono calciatori esperti se uno poi non sa fare l'abc del calcio è grave se io devo spiegare a un centrocampista un attaccante i movimenti l'attaccante che viene incontro quello che va in profondità e mi parla di elementari però credo che lo faccia magari anche per per stimolare i ragazzi a dare qualcosa in più perché bisogna dare qualcosa in più. Sicuro? Jessica? Sì parliamo di nuovo di centrocampo Franco Matera chiede Maiello perché non gioca? Perché non gioca? Beh intanto poi pronti via con Iachini abbiamo subito visto una mezz'ora poi anche lui torna da un infortunio serio se era il crociato è tornato anche lui in tempi strettissimi poi però effettivamente non ha più messo piede in campo. E che ne pensi del doppio play anche? Sì il doppio play però anche là torniamo al discorso di terra genere Benali bravo però è un giocatore che non è che inventi gioca corto. Sì vero. Non ha strappi Maiello è simile poi rischiamo di guadagnare qualcosina nella personalità però Maiello che viene da 4-5 mesi a parte le caratteristiche viene anche da questo infortunio. Io credo che al momento uno sia alternativo all'altro quindi Maiello si andrà ad inserire poi piano piano quando magari lo vedrà lo vedrà meglio. Il problema è se potessero giocare terra genere Maiello non sarebbe male come dorsale uno che che diciamo che copre la difesa l'altro che il bar ha bisogno di qualcun altro che inventi qualcosina non possiamo essere. Perché non quello diciamo personalità però anche qualità tecnica perché ora stiamo vedendo anche una pochezza da quel punto di vista e poi per vincere le partite e anche per produrre azioni offensive ti servono giocatori di qualità. Come dice sempre Allegri poi sì a volte si discute gli schemi è giusto però poi bisogna passarsi la palla a quello che ha la stessa baglietta tua altrimenti si fa si fa fatica. Se non fai tre passaggi in fila è dura. Noi andiamo ancora in pausa pubblicitaria tra poco con la terza parte del Bianco e Rosso TV Sport Ultima chance a City Moda trovi fino al 50 per cento più un extra 30 per cento di sconto immediato con una spesa minima su tutte le collezioni autunno-inverno. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook audacia azione avventura Suzuki 4x4 fuori dai luoghi comuni Car Service Bari concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT Viale Iapigia 243 Bari Car Service Bari nel cuore di Bari Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggio Franco. Ogni giorno sono il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci via Orfeo Mazzitelli 244 Grazie a tutti per la tua spesa. Codes, società di ristrutturazioni edili, interni ed esterni, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento idrici e fognari, dalla progettazione alla manifattura. Codes SRL è a Modugno in via Brescia 4D. Mail codessrl.info.gmail.com Whatsapp 375 817 0098 WMB Viaggi Vienici a trovare in una delle nostre agenzie Siamo a Bari. In via Brigata Regina 72 via Giuseppe Fanelli 221 via Andrea da Bari 69 e in via Cirillo 2 barra via Valenzano WMB Viaggi.it Farmacia Cavallo Sempre al servizio del cittadino Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13 Vasta gamma di prodotti dermocosmetici integratori alimentari, farmaci da banco molteplici servizi. Farmacia Cavallo In via Le Papapio 1248B A Bari Ancora qualche minuto insieme con Antonello Remonde e Jessica Ramos. Jessica a te Sì, ci sarà la partita ovviamente a Venezia non vediamo l'ora di vedere che appunto che performance farà la squadra C'è già l'informazione riguardo la prevendita se volete le facciamo vedere in grafica La vendita per la curva ospite aprirà alle ore 15 di giovedì 7 marzo e chiuderà alle ore 19 di sabato 9 marzo L'acquisto, il costo totale è di 25 euro e per l'acquisto avete tutte le informazioni qua oppure nella pagina del Venezia Football Club E sì, poi anche per raggiungere lo stadio lo stadio penso partitaccia Antonello Conto comunque una squadra che gioca bene al calcio però poi lì davanti Ha avuto anche un lungo momento di crisi Hanno anche delle battute a vuoto C'è il Parma che ha preso leggermente il largo Proprio un po' tutte dei difetti li hanno e non sono squadre imbattibili Poi è chiaro che sul piano della qualità sono superiori, su questo non c'è dubbio In Serie B tutti giocano con tutti Abbiamo visto anche il Parma perdere all'Ecco Il Venezia ha avuto 5-6 partite in cui ha fatto grandi difficoltà anche di risultati Quindi di giocare te la giochi Però se andiamo a guardare e l'abbiamo visto l'andata la qualità della rosa la qualità tecnica del Venezia Il Bari secondo me deve sperare che il Venezia non sia in giornata Poi sai, ci sono anche gli incastri di caratteristiche Quindi speriamo che Iachini riesca a trovare la chiave per togliere certezze al Venezia Oltre ad avere un centra-arti straordinario per la categoria Perché poi Ampalo fa gol praticamente ogni settimana E hanno venduto Jonsen alla Cremonese Quindi È un'altra bossa un po' strana Perché è solo dare un giocatore a una diretta concorrente Di solito Di solito non si fa Ma al caso sì, Vanuoli se ne lamentò In tifosi chiedono ancora il tuo parere riguardo altri giocatori Per esempio Puskas Che ne pensi delle sue performance E anche perché non gioca a Belluomo? Allora, Belluomo L'abbiamo detto anche per Moracchiole Certo, potrebbe avere delle chance anche lui Non mi sembra che chi sta giocando Stia dando chissà quale risposta Non dobbiamo pensare però Che se dovesse giocare a Belluomo Il Bari cambierebbe Come il fatto di Moracchiole Dal giorno alla notte Però sì Diciamo fa un po' effetto Vedere che Belluomo è uscito completamente Dai radar Puskas Per me non è mai stato un bomber di razza Devo dire che sono rimasto sorpreso Dal suo ritardo di condizione O meglio Non so se poi sia un ritardo Ti ricordi anche il fatto di Aramo Dopo tre mesi ancora parlavamo di condizione fisica E secondo me è fuori luogo È un giocatore che Eppure anche lui Polito Anche perché poi Non è che nel Genoa era fuori rosa Era a tutti gli effetti Un componente Polito lo ha voluto a tutti i costi Quest'anno davvero Il direttore sportivo È stato anche un po' sfortunato Insomma Ne ha azzeccate davvero poche Poi il Bari addirittura Risulta che Gli abbia dato Addirittura un aumento Sul già sostanzioso ingaggio Per convincerlo a venire a Bari E finora le prestazioni Sono state Certo Finora il mercato di gennaio Ha inciso zero Zero A proposito di questo Antonello Nell'ultima gara contro lo Spezia I quattro acquisti di gennaio Sono partiti tutti dalla panchina Poi abbiamo scoperto Che comunque per Puskas C'era anche un problema Per quanto riguarda Uno stato influenzale Però di fatto Chi doveva dare Far fare un salto di qualità A questa squadra È partito dalla panchina Questo è anche un segno indicativo Poi Su tante cose Che in questa stagione Non stanno funzionando Io continuo a credere Che Diciamo Le campagne di Campania acquisti Si facciano in estate Quando tu programmi una squadra A gennaio O ti presenti Col portafogli Pieno E vai a prenderla La certezza Il giocatore che sta giocando In un'altra squadra Vedi La cessione Del Venezia La Cremonese O se no Rischi di Perché se vai a prendere Il giocatore Che in A Sta giocando poco Sono operazioni rischiose Lulic È un buon giocatore Ma non giocava Da febbraio E si vede Anche una persona Che non sa di calcio Capisce come Quando un giocatore Gli manca il ritmo partita Fa fatica A parte che si rischiano Altri intoppi Fisici Stiamo guardando Maiello Che anche lui Poverino Sta facendo fatica A essere Diciamo Candidabile A una maglia Da titolare Callon Chiaro era Stato più preso In ottica 4-3-3 Con Marino Poi finisce il mercato Si cambia allenatore E rinforzi magari Di gennaio Trovano poi Meno spazio Questo ripeto È un po' L'emblema Di questa stagione Molta confusione Disgraziata Evidentemente Il direttore sportivo Credeva Che fosse tutto Abbastanza semplice E chiaro Che ci fosse qualcuno Che non esaltava La forza della rossa E credo che i fatti Lo abbiano Pessantemente Smentito Sia Su Mignani Ma anche su Marino Che a un certo punto Qualcuno ha fatto passare Per il Per il vecchio Rincitrullito Trovato lì per strada E fatto venire al campo Ed è stato anche questo Un po' A me è spiaciuto molto Come è andato via Marino Che ripeto Avrà fatto i suoi errori Magari il Bari In le ultime partite Sembrava un po' Può darsi Che avesse perso Un po' Diciamo L'appil sulla squadra Però parliamo Di una persona per bene Di un professionista serio Di un uomo Che ha allenato tanti anni Ha fatto buone cose Ha delle idee Magari non sarà Il maestro di calcio Che con un po' Di imprudenza Polito Lo ha presentato così Però Mi è spiaciuto Come è stato trattato È arrivato Iachini È un vincente In serie B Un allenatore Che ha fatto bene Anche in A E però Conferma che i miracoli Nel calcio Non se ne fa Jessica Sì Ci sono tifosi Che hanno avuto La sensazione Come per esempio Luigi a Brescia Che i giocatori Hanno timore di rischiare Di sbagliare Ti chiede anche tu L'abbiamo detto prima Sì Non so se è paura Se è paura O se è incapacità Perché quando tu hai La palla tra i piedi E ti scotta Questo Torno a dire Attiene al tuo livello Di personalità Devi cercare di rischiare Un po' la giocata Per portare la squadra In avanti Riuscire a A non fare solo Passaggi orizzontali Ma ogni tanto anche cercare Il compagno Sulla verticale Magari anche qualche pallone In profondità Se gli attaccanti Fanno i movimenti giusti E qualcosina Da questo punto di vista Si era già visto Con Sia con Mignani Con Marino Ma anche con Iachini Cioè I movimenti Sull'esterno Per magari Per aprire un po' le difese Però poi Funziona poco Il meccanismo Sì Complessivo Cioè la squadra Nel complesso Tu la guardi Non ti dà la sensazione Di una squadra Che convinta Di essere squadra Sì Di avere una Una precisa identità Né carne né pesce Il Bari Non è una squadra Da battaglia Né una squadra Bella E poi la classifica Dice quello Perché sì Siamo a due punti De playoff A cinque dei play out Però di fatto Siamo in quella posizione D'inizio D'inizio campionato Non riesci a pensare positivo Poi ripeto Felicissimo Di essere smentito Io ne sarei Capitato tante volte Nella mia carriera Di dover cambiare idea Però Guardarlo così Torno a dire Tu Bari Spezia Ti aspetti Ma non il bel gioco Io mi aspetto una squadra Che sprigioni entusiasmo Che sprigioni voglia Che metta l'avversario dietro Ripeto Non dico per 90 minuti Ma che ci faccia vedere Qualcosina È quello che chiedono i tifosi Poi anche con l'ossessione Poi dei gruppi organizzati E il meritateci Questo ritmo lento Questa squadra Che sembra sempre stanca E senza idee Magari non è così Perché gli allenatori Ci provano a dare idee Però evidentemente È una rossa anche male assortita Perché il calcio E fede anche Io riguardavo il Bayern Monaco Tu li guardi Tecnicamente Fanno paura Eppure è una stagione Finora fallimentare Perché Non c'è solo il bel gioco Esiste l'alchimia In una squadra L'intesa che si crea Le caratteristiche Che si vanno a incastrare L'abbiamo visto noi Anche col Bari Della passata stagione E tu rendi di più Putiamo l'occhio Anche sul Venezia Per esempio Gianluca Busio Busio Non so come si pronuncia Busio Ha parlato E ha detto Ora siamo concentrati sul Bari Sarà una partita Importante Contro un avversario Di qualità Vogliamo farci trovare pronti E fare una grande prestazione Davanti ai nostri tifosi Per rialzarci Dopo la sconfitta di Como Crediamo in noi stessi Vogliamo lottare Fino alla fine Per inseguire il nostro sogno E loro hanno perso La brutta partita Al 95 Col Como Ma sicuramente Sarà una bella partita Anche di cartello Venezia Bari Bari comunque Per l'avvi Agli avversari Incute sempre un certo Timore Ed è una squadra Che tutti sanno Che sulla partita secca Può Dar fastidio Se ci ricordiamo Di chiamarci Bari Non sarebbe male Eh sì Allora Nell'ultimo spazio Ci saranno Chiaramente anche Notizie Relative agli altri sport Agli altri sport Esatto Però faremo il focus Sul taekwondo Qui a Bari Con Luigi Clemente Quindi niente Rimanete E scoprirete un po' I risultati Però Anticiamo il tutto Perché c'è un servizio Del nostro Michele Carofiglio Perché gli Harlem Globetrotters Faranno tappa Anche a Bari Carofiglio è un tuttologo Lo mandiamo ovunque Michele Carofiglio Sarà il Palaflorio Ad ospitare Una delle squadre di basket Più famose Al mondo Vediamo i dettagli Proprio nel servizio Del nostro Michele Carofiglio La leggenda Non si ferma Gli Harlem Globetrotters Tornano in Italia Con un nuovo show Sempre più divertente E coinvolgente Il World Tour 2024 Dei cestisti americani Farà tappa Anche a Bari Al Palaflorio Mercoledì 13 marzo A partire dalle 20 e 30 Fondati nel 1926 Gli Harlem Globetrotters Sono tra le squadre Di pallacanestro Più famose Di tutti i tempi Fin dal 1950 Hanno esportato Questo sport nel mondo Esibendosi con le loro acrobazie In oltre 120 stati E intrattenendo Più di 150 milioni Di appassionati Beh, ospitare Una partita Degli Harlem Globetrotters È bello È bello anche per chi Come me Ha giochicchiato un po' A palacanestro Quando era più piccolo La stessa felicità Con la quale un bambino Apre un regalo a Natale E con quella felicità Io personalmente Sarò presente Al palazzetto Bah, siamo emozionatissimi Non è la prima volta Che lo facciamo Quest'anno addirittura Abbiamo dovuto prevedere Qualche allestimento in più Per raggiungere dei posti Siamo molto orgogliosi Del successo Della manifestazione Non vediamo l'ora Di vedere il palazzetto pieno Uno show Dentro lo show Con il Magic Pass Sarà possibile Diventare un Harlem Globetrotters Almeno per una volta Nella vita Con l'evento pregame Che trasformerà il pubblico Nel vero protagonista Della serata Per i giovani Sarà sicuramente Un'esperienza bellissima Perché come ho detto È bello sia Per chi gioca A pallacanestro Ma anche per chi Non gioca a pallacanestro Perché evidentemente È un evento Che sì È una partita di pallacanestro Ma è uno show A tutti gli effetti Quindi sarà molto divertente Soprattutto per i più piccoli Grande caro figlio Grande Lo salutiamo Il nostro Michele Carofiglio Ci vai Jessica? Sicuramente Io vorrei andarci tutta la vita Sarebbe già la seconda volta Che li vedo Ah Perfetto Perfetto Divertentissimo E allora Prima di dare spazio Agli altri sport Sempre con la nostra Jessica Un pensiero di libertà A te Antonello Poi chiudiamo Ma Stiamo arrivando alla fine Di questa stagione Io quello che spero Che la squadra Al di là di quello Che poi sarà L'epilogo finale Se il Bari Andrà in playoff O se no Che la squadra Riesca un attimino A essere un po' più degna Di questa fantastica tifoseria Non dimentichiamo Che anche con lo Spezia 16.000 Sì È vero Presenze allo stadio Con una squadra Che ha reso meno Una delusione enorme Dopo Il sogno dell'anno scorso E quindi spero Che la squadra Riesca a fare qualcosa in più Perché siccome Si è parlato Di mettere le basi Per la prossima stagione Io ho i brividi Se penso che queste Possano essere le basi Quindi se io non vedo Che qualcosa si smuove Temo che ci vorrà Un'altra rivoluzione Perché se queste Sono le basi Secondo me Da fare tabula rasa Se non Pochissimi Il rischio è quello Che si debba ripartire Nuovamente da zero Quindi aspetto Qualche segnale di risveglio Un grazie ad Antonello Remondo Giornalista della Gazzetta Del Mezzogiorno Jessica Il tuo spazio Sì Rimanete con noi Che parleremo di tanto sport Pubblicità Elettrica Armenise E impiantistica elettrica Da quasi vent'anni E realizza impianti Per case private Condomini E attività commerciali Utilizziamo esclusivamente Materiali certificati Di alta qualità Per garantire Impianti sicuri E affidabili Progetti eseguiti In conformità Alle norme europee Specialisti Nell'installazione di antenne Per il digitale terrestre Parabole Sky Impianti di sorveglianza A circuito chiuso E nell'automazione Dei cancelli Professionalità Prontezza E affidabilità Al vostro servizio Non sceglieteci a caso Avete i migliori motivi Per affidarci la vostra azienda O la vostra casa Elettrica Armenise Via Lucera 9 Modugno Bari O armeniseimpianti.it L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori Il mondo è un libro E quelli che non viaggiano Ne leggono una sola pagina Follow Bus Viaggia in tutta sicurezza Tra Puglia Basilicata e Campania Prenota subito Sul basmiccolis.it Tornè in city sub Chi viaggia al ritmo Delle tue passioni Nuova T-Cross Bella da vivere Da 149 euro al mese Dan 4 in 99 Tag 6 e 09 Dalla tradizione artigiana pugliese Alle nostre tavole I buongustai Salumi di qualità L'eccellenza del crudo guascone Stagionatura 18 mesi Capocollo riserva Stagionatura 5 mesi Salsicce come una volta I buongustai salumi Cercali nei migliori supermercati e salumerie Anche su Facebook e Instagram Questo programma è offerto da GoUp Noleggio piattaforma aeree In questo momento parliamo di Taekwondo Lo faremo con Luigi Clemente Buon pomeriggio Luigi Tecnico E anzi Direttore tecnico Della SD Bek Do San Taekwondo Bari Scusami Ma è un po' difficile Perché è in un'altra lingua Esatto E' un'arte marziale Raccontami in cosa consiste Questa arte marziale Perché comunque ci sono tanti tipi Sì Allora diciamo che Taekwondo È specializzata con calci e pugni Ma in particolare i calci Ma avete protezione Abbiamo le protezioni Quindi parliamo di combattimento Ma varie sfaccettature Tra cui calci acrobatici Considerate Qua vediamo anche qualche Qualche azione di gara Infatti io ti volevo chiedere Come si evolvono queste gare In cosa consistono Qual è l'obiettivo Allora le gare Diciamo di combattimento Hanno l'ausilio delle protezioni Come tu hai detto Ma anche delle corazze elettroniche Considera il fatto che Quando tiriamo dei calci Sul corpetto o sulla testa C'è praticamente il punto Considera che le azioni più importanti Dove valgono Dove ci sono dei punti maggiorativi Sono i calci alla testa In particolare i calci acrobatici Quindi i salti Magari come abbiamo appena visto Sì Vabbè qui ci sono dei colpi Diciamo nel kickboxing Perché io faccio anche delle gare di kickboxing Questo è il taekwondo E quindi corazze elettroniche Guantopiede elettronico Ed è quindi uno sport Un'arte marziale Sport moderno E io vedo che il posto dove tu giochi E il pavimento Ha diversi colori Centra qualcosa? Se esci Se non esci Non c'entra niente? Allora se esci c'è una munizione Ok E quindi c'è una deduzione di punto Adesso c'è un punto all'avversario Praticamente Poi noi abbiamo La possibilità di giostrare Tra virgolette Anche nelle munizioni Perché considera che Cinque munizioni E primo round Sei fuori dalla gara Quindi bisogna essere Attenti a questo Esatto Poi è uno sport singolo No? Come si gestisce Una gara Allora Sì Considera che È uno sport Individuale C'è molta Forza mentale Equilibrio mentale E si sviluppa Si sviluppa anche In un gruppo Perché noi facciamo Allenamenti di gruppo Di gruppo E quindi anche C'è un team Cioè è molto bello Come discorso Perché considera che Noi Siamo una squadra Però poi Chiaramente L'individuo Ognuno Lavoro per sé Sì sì Lavoro per sé Invece Parlando ora di rugby Mi collego Perché nel rugby Sono 15 contro 15 Giocano tutti insieme E C'è ora la squadra Del Tigri Rugby Bari In serie C Che sta lottando Per Per arrivare In serie B Questa domenica 3 marzo Ha vinto con 38 a 3 Contro il Benevento E in classifica Loro ora sono Primi con 14 punti Nel prossimo turno Domenica 17 marzo Il Bari Affronterà La formazione Dei Wilders Allo stato della vittoria Alle ore 14 e 30 Qua invece Vediamo un'immagine Di hockey Domenica 3 marzo La squadra Rinnovamento Hockey Bari Che milita in serie C Anche questa Ha perso per 3 a 1 Contro la squadra Patinatori San Benedetti Il 24 marzo Gli under 14 La squadra di serie C Giocheranno a Bari Nel parco Ecopoli Alle ore 14 Contro Castelli Romani Voi però lo scorso 2 marzo Siete stati ospiti Del comune Dove Pietro Petruzzelli E anche il comune Vi ha donato di? C'è stata una premazione Diciamo di atleti Che si sono distinti A livello nazionale E internazionale Quindi vari atleti Diciamo che L'attleta che ha vinto Ultimamente Un campionato grosso E' stato Vito Antonacci Campione italiano 2024 Circa 20 giorni fa Torino Ok Poi ci sono stati Premiazioni di altri atleti Noi abbiamo fatto Parecchie medaglie d'oro In varie categorie Cadetti Children Master Campione italiano Francesco Cucumazzo Troccoli Alessandro Antonelle Denidate Lo stesso maestro Clemente Nei Master Poi ci sono stati Vari Medali internazionali Siamo stati a Bruxelles Sì A novembre Lo stesso Vito Antonacci Oro Ma sono tutti ragazzi Della tua società? Della mia società Della mia sede distaccata Capitanata da Nico Risola In cui anche Francesco Scarciolo Bronzo agli italiani E oro a Bruxelles Lo stesso maestro Risola Oro a Bruxelles Ci sono state una serie Di premiazioni Diciamo Premiazioni Sì Come è nata La vostra società? Allora Allora la mia società È nata nel 2011 Considerando il fatto Che avevo fondato Con il maestro Martino Fumarola E con il maestro Francesco Belviso La Corio Bari Nel lontano 2000 Poi le strade Si sono divise Perché il maestro Francesco Sta a Modugno Il maestro Martino Fumarola Sta alla Cantudaia A Bari E quindi ho fondato La Becdo San Taekwondo Bari Montagna luminosa Abbiamo visto anche Che hai fatto Un libro Di cosa parla Questo libro La mia esperienza Personale Nelle arti marziali E in particolar modo Nel taekwondo Mi ha cambiato La vita Mi ha fatto diventare Una persona Diciamo Diligente Una persona Equilibrata E quindi Lo consiglio Consiglio A vari sportivi Quindi tutto grazie A questo sport Tra l'altro Se non erro Anche i tuoi figli Praticano questo sport Quindi hai tramandato Questa passione Diciamo E questo stilo di vita Anche a loro Sì Diciamo che io Ho fatto praticare Taekwondo In particolar modo Per la difesa personale Per dargli equilibrio Nella vita Considerando il fatto Che probabilmente Siamo la famiglia Diciamo Leader Tra virgolette In Italia Perché mia moglie È cintura nera Secondo dan I miei figli Terzo dan Quindi tutta una famiglia Di cinture nere Di taekwondo Ti fermo un attimo Perché andiamo In pubblicità Piattaforme aeree Autocarrate E cingolate Se muoventi Articolati E verticali Ponti bicolonna Autosollevanti Montacarichi Da cantiere Impalcature Soluzioni Per il sollevamento Pensa Progetta Raggiungi la venta Go up Always up Vorrei parlare Del basket Vorrei dare il risultato Delle partite di basket In serie B Nazionale Il Lions Bisceglie Perde contro Gemini Mestre Mentre che Il Ruvo di Puglia Vince contro La palacanestro Padova In classifica Il Ruvo di Puglia Si distacca per due punti Dalla seconda in classifica Rossetto Per il contrario In Lions Si trovano in coda Alla classifica Penultimi con 16 punti Le prossime sfide Si terranno domenica 10 marzo Via però I playoff e playout In serie B Interregionale Durante la prima giornata Dei play in In gold Hanno vinto Virtus Molfetta La squadra Sala Consigliana Salerno E Ragusa Leader della classifica La Virtus Molfetta Con quattro squadre Che si contendono Il secondo posto Con otto punti Le prossime partite Si svolgeranno Domenica 10 Alle ore 18 Nell'immagine Ora i risultati Della prima giornata Dei play out A vincere sono Brindisi, Adria Bari Mola e Venemento In classifica Il Venemento Raggiunge il primo posto Con 12 punti Le prossime partite Si terranno Sabato 9 E domenica 10 Torniamo a parlare De Taekwondo Non so se l'ho pronunciato bene In Puglia Ci sono tantissimi ragazzi Campioni Addirittura D'Italia Ricordiamoci Dell'Aquila Di Molfetta Campioni olimpici Esatto Vito dell'Aquila E Chiaramente Carlo Molfetta Medagli d'oro Due medagli d'oro Incredibile Due medagli d'oro Quindi La Puglia Poi è Diciamo la regione Più forte d'Italia Considerando il fatto Che i due atleti Da te nominati Sono dalla New Marcia Del maestro Roberto Balivo Roberto Balivo Che saluto Ed è il Veramente Il leader Come agonismo In Puglia In Italia E si In effetti Tantissimi Atleti Appunto Che si sono Avvicinati A questo A questo sport Hai detto Che possono Anche avvicinarsi Bambini Piccolissimi Tu Da Il bambino Più piccolo Che hai Nella tua società Allora I bambini più piccoli Sono di 4 anni Anche quest'anno C'è stato qualcuno Di 4 anni Anche Vito Antonacci Il campione italiano Aveva 4 anni Quando ha iniziato Quindi 10 anni di lavoro Quindi qualsiasi persona Si può avvicinare Qualsiasi range di età Master pure Quindi abbiamo gente Anche over 50 Over 50 addirittura Quindi per fare le pirouette E queste Si si Non c'è problema Non c'è problema Approfittiamo per parlare Di pallavolo Diamo i risultati Della serie A3 Con la Jazz British Bari Che perde ancora Contra la rinascita Lago Negro Per 3 a 1 In classifica Si situano ultimi Con 16 punti La prossima sfida Sarà In turno casalingo Contra la sesta In classifica Avimek Modica Il sabato 9 All'ore 17 Al Palacarbonara In serie B Invece Nell'immagine I risultati Della diciassettesima Giornata di campionato In classifica È da notare Il distacco Di 10 punti Tra la prima In classifica Il Grottaglie E la seconda Pack Volley È evidente anche Come tre squadre Si contendono Il terzo posto Galattone Molfetta E Gioi Volley Le prossime partite Si evolveranno Tra il sabato 9 E domenica 10 marzo Allora Siamo in chiusura Allenamenti Dove fate le gare Le prossime gare Raccontami un po' Si Noi ci alleniamo Al Palacarassi In una bellissima struttura Veramente molto bella Accogliente Che giorni? Ci alleniamo Quasi tutti i giorni Perché c'è la presidentessa Patrizia Aldini È stata anche Vostra ospita E ci dà la possibilità Di allenarci sempre Le prossime gare Sono a Tirana Domenica Quindi nel top Tirana Open Un campionato internazionale Speriamo anche lì Che i ragazzi In bocca al lupo Crepi Grazie E niente Speriamo di dare qua I vostri futuri risultati Dai Grazie mille a voi Per l'ospitalità Grazie mille Noi ci vediamo Domani con un altro appuntamento Del TV Sport Non mancate Questo programma È offerto da GoUp Noleggio piattaforma aere Noleggio piattaforma aere